Tre nuovi arresti, tre insospettabili, tre incensurati della provincia di Bari di 58, 51 e 46 anni. Sono finiti uno in carcere e due ai domiciliari con l'accusa di aver adescato su internet minori e di aver compiuto atti sessuali tra i vialoni dello stadio San Nicola. Macabro teatro del sesso mercenario scoperchiato l'anno scorso anche da alcuni servizi tv del programma Le Iene. L'inchiesta del PM Marcello Quercia della Procura di Bari su un presunto giro di prostituzione minorire era già sfociata in altri tre arresti. Il 12 marzo scorso è toccato a due anziani responsabili di aver intrattenuto rapporti sessuali in cambio di pochi euro con un ragazzino rom di 13 anni. Entrambi sono stati condannati con sentenza di primo grado alla pena di sei anni ciascuno, rito abbreviato. Successivamente è stato eseguito un ulteriore provvedimento restrittivo nei confronti di un ristoratore di Modugno di 45 anni, consigliere comunale, incastrato da intercettazioni audio-video che avrebbero documentato atti sessuali con un minore sempre nell'area adiacente allo stadio San Nicola. Le indagini proseguiranno, fanno sapere gli investigatori baresi, per approfondire tutti gli spunti investigativi raccolti dall'analisi dei reperti informatici e dei messaggi e foto scambiati tramite i social network.